Mi chiamo Bernardo Briganti, sono un sacerdote di Corleone. Quando qualcuno si veste elegante a Corleone, uno dice pare che veste tutto di sacramento, perché per la festa del Santissimo Sacramento tutti uscivano vestiti eleganti, perché non solo si partecipava alla processione, ma era anche l'occasione per i ragazzi di trovare la ragazza, per ritrovarsi con i parenti, con gli amici, per comprare, non c'erano allora nei centri commerciali, nei supermercati, per comprare qualcosa alla fiera.